ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video oggi vi voglio far vedere dove ho posizionato tutte le cose che ho acquistato con i saldi nella mia collezione ho fatto un po' di aggiustamenti pochi ammetto pochi e quindi vi voglio far vedere appunto dove ho messo tutte le cose la prima cosa è qua ed è nel bracciale di winnie pooh sono andata ad inserire il mio tamburino cioè questo che in realtà è tappo per me è tappo e l'ho messo in questo punto ho cercato di bilanciarlo al meglio ma ho dato priorità più che altro alla storia ci sono i bracciali che appunto preferisco bilanciare come forme e altri come storia questo qua come storia che cosa ho fatto ho tolto il coniglietto di aliexpress che ho qui così vi rendete conto era questo fatto in questo modo è davvero piccolino all'interno della testa il corpo è attaccato attraverso una sorta di tipo fermacampione questa cosa non mi è piaciuta tantissimo perché appunto c'è le linguette aperte è forato all'interno quindi totalmente forato e vuoto e appunto il corpo è molto 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 piccolino cioè rispetto a un charm normale e microscopico questa era per questo il coniglio non c'è paragone quindi ho deciso di toglierlo e vi dicevo che il parcio mi aveva suggerito di inserire tamburino quindi l'ho fatto e ho tolto lui da qui l'ho tolto e ho inserito lui ovviamente mi mi è cambiato un po tutta la simmetria perché il coniglio di aliexpress era perlina mentre questo qua è pendente l'ho organizzata così considero lo stopper con l'ape con un charm e mi va più che altro a bilanciare l'elefante che ha praticamente anche abbastanza la stessa forma dai diciamo di sì perché appunto ha le orecchie larghe e anche l'ape ha le sue alie larghe mi sto arrampicando sugli specchi sia abbastanza e poi ho messo qua la primulina opposta a tamburino ho pescato questo open work con le margherite dal bracciale tutto bianco perché secondo me ci stava bene tanto le api fiori miele anche in caso anche qua c'è un'ape c'è una coccinella le margherite bianche anche qua ho la margherita bianca quindi diciamo che poteva essere parte della stessa storia non ho messo da questa parte l'alveare perché secondo me sta meglio di qua dalla parte dell'elefante o delle filante perché appunto il raghiotto di miele secondo me così è messo giusto poi ho messo i due pendentini non so sinceramente se questo qua verde resterà qua perché vedete abbastanza strettino già la struttura da 19 è una 18 e mezzo perché questa chiusura porta via mezzo centimetro perché più piccola rispetto alle altre è più piccola rispetto alle altre quindi mi porta via un po di spazio poi è proprio pieno 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 e non lo so se magari riesco a trovare un altro pendente o sostituirlo con un altro pendente probabilmente quello con il cuoricino con il puere lì quello con all'interno la pietra gialla forse ci sta meglio ma non lo so ci devo pensare questo sicuramente ora come ora mi sta stretto perché stiamo lavorando per voi per dimagrire oggi ho perso un chilo e mezzo sì va bene quindi stiamo lavorando per voi molto lentamente così come deve essere e quindi il resto mi è venuto tutto praticamente giusto quindi il gufetto e il canguro le due murrine questi qua sono di aliexpress anche questi potrei farne a meno perché questo qua è uscito appunto con i saldi ma secondo me costa ancora abbastanza tanto e non mi aggiunge niente toglie niente ho visto l'originale ho visto il tarocco ci spostare anche il tarocco e questo qua non è uscito con i saldi o ero uscito in germania forse ma da noi non è mai arrivato questo con l'alveare e appunto l'ho preso da aliexpress perché costava davvero tanto quello originale queste cose non sono marchiate e poi vi avevo messo anche il link nel video su aliexpress degli acquisti dell'1111 quindi se vi interessa andate a ripescare quel video lì poi ancora tigro e io le due clip quindi il resto è rimasto come era prima mi avete chiesto anche di fare un video su come bilanciare i miei bracciali l'avevo già fatto ma riconosco che magari era un po' troppo lungo e devo trovare il dono della sintesi cosa che già non ho neanche in questo video lo so lo so quindi questo qua è la prima cosa che ho fatto questo qua è più che concluso perché non ci sta dentro più niente poi clip avevo preso la clip con le foglie che non è mai arrivata e grazie ragazze perché mi state taggando ogni volta che le trovate su facebook ma c'è stato un problemino con cipolla ancora con la micia e quindi il mio budget è andato totalmente poi alla fine avevo anche comprato questa clip qua cioè questa con il quadrifoglio in shine e alla fine ho trovato anche il suo posto però non escludo niente magari più avanti sicuramente e appunto vi dicevo avevo preso queste due clip che volevo mettere nel bracciale che sto costruendo a tema autunno pandora barra troll beats sto facendo tutta una cosa mia non so se mi verrà mai magari poi lascio anche totalmente perdere tutto però mi piaceva abbinarle per dimensione forma quindi sono entrambe sferiche sono entrambe tonde e non mi piacciono le clip uguali strane in un bracciale solo che le ho uguali ma in tutte le altre sono tutte differenti perché mi piace averle così come se fossero dei charm anche loro e quindi le prendo di forma molto simile però ovviamente differenti e questo è la seconda accoppiata che ho fatto con le due clip per ultima cosa c'era la collana collana in cui ho inserito il pesciolino russo lo sto portando così o meglio lo sto portando così al collo si vede questo e non so sinceramente se rimarrà qua il pesciolino russo perché ho un'altra collana però non lo so così riesco a portarla l'altra collana inizia a diventare pesante ci sarebbe bene anche là però non lo so e altra cosa che mi veniva in mente era di fare questa cosa qui cioè trovare un'altra clip per questo e magari fare questa cosa che secondo me ci stava pure bene essendo tutto in shine ed è la prima volta che provo questa cosa qua così devo dire che non è affatto male ovviamente pensavo di andarci a inserire magari all'interno un gommino uno stupperino in modo che così mi resta ferma la clip in questo punto ovviamente la collana si apre da questa parte quindi anche questa cosa di avere al collo una composizione del genere non è affatto male anzi secondo me si valorizza di più ora che la vedo wow mi piace tantissimo e poi così risolva anche il problema della delicatezza di questa clip che ha il quadrifoglio però a questo punto mi manca la clip marzia quella con le foglie che vi ho taggato 300 volte perché non la copri ti manca 20 euro anzi 30 con la spedizione ragazzi ragazzi vabbè ok e sarebbe il perfetta qua però questa è la cosa che mi sta venendo in mente poi magari con le prossime collezioni ci fanno una clip decente no magari quella autunnale no magari dai su forza fateci una clip decente per i bracciali a tema autunnale visto che ci fate i charm a tema autunnale fateci anche le clip a tema autunnale magari tonde così pandora pronto così basta ho detto tutto ragazzi questo è dove ho posizionato tutte le cose ovviamente l'altro bracciale non ve lo faccio vedere perché è rimasto così com'è quello con Migneto Polino perché è vuoto lo porto vuoto quindi non ho nessuna intenzione di andarci a fare nessuna composizione sopra ma queste sono come ho organizzato le cose nuove prese con i saldi ok ragazzi io ho terminato questo video e ci vediamo nel prossimo ciao